Buonasera a tutti, mi chiamo Alessandro Giustino, ho 20 anni, ho 20 anni, vengo appunto da Mamoli, e vi presento il mio drink, non so come parlare sinceramente, si chiama Alboros Orienta, Alboros Orienta, perdonatemi, questo nome lo brinde da tutti qui un prodotto di filter che sono tutta, appunto, di Minerogia. Ah, e che no, il cocco io. Per l'ultima mano, per l'ultima verso, che appunto la pesca viene al Japone, nemmeno io lo sapevo sinceramente, mi sono informato. Grazie. Giustino, questo va bene, il mio complesso. L'ultima, sì. L'ultima va bene, perché il Dambaglio è troppo ridotto. No. Quindi, è un saluto, è un tipo un club. Salva! Eriu. Alla musica. Alla musica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.